Buongiorno Presidente. Il San Casimiro nel 1636 è stato proclamato il padrono della città di Palermo. I fonti scritti dicono che in questo tempo la città di Palermo è stata protetta da cinque sante donne. Mancava un uomo, un esempio per i nobili siciliani. ...dando le reliquie di San Casimiro. Il Vescovo di Grimis manda la più grande reliquia che noi sappiamo. Prende dalla cappella, dal sarcofago, la reliquia di Grimis Cosmo. Allora, questo abbiamo. Poi, autentatore, secondo il mondo attuale del Gesù del Patrioto, questa immagine è una copia. Ma prima di 4,5 anni, stava qua. Dopo aver divinto il nostro postino, c'era questa visione che dipinge il nostro servizio. Immagino che non si può scegliere. Ecco, ma... La nostra perna della Europa del Nord, così chiamiamo, e ora ci si è del risultato bellissimo. La vista attuale della cappella è la fine del 1692. Qua ci sono le spoglie, le reliquie di questo sarcofago di San Casimiro, e da questo sarcofago è stata presa questa ossa e mandata così per i medici. Sì, le due mani con Giglio sono ripetute due volte. Il perché... C'è... Vimmi... Vimmi la primavera Vivendo le sonciuri A mio fuoco d'amori Luca rimatta un po' Lascia... Vimmi la primavera E' la primavera Scoperta Come e voi Un festival domenica. Un festival domenica.